Il GAL è uno strumento che la Comunità Europea mette a disposizione dell'agricoltura svantaggiata, quella soprattutto delle aree interne, quella povera. Questo bando viene pubblicato e c'è la scadenza del venerdì 9 alle ore 12. Stranamente i territori si organizzano perché nel bando è previsto che ogni GAL, quindi ogni territorio, può avere a disposizione 3 milioni di euro sono previsti almeno un GAL per ogni provincia per cui se ne possono finanziare 7. Viene sposto il bando, c'è la scadenza, c'è una prima richiesta fatta in tempi non sospetti dalla Camera di Commercio di Chieti al ridosso della scadenza ma con largo anticipo che chiede la proroga. Gli uffici, il dirigente dell'ufficio tecnico non dà l'autorizzazione perché ci sono poi altre scadenze conseguenti. Stranamente il presidente D'Alfonso scrive che chiede un'ulteriore proroga. Lo stesso ufficio risponde che non è possibile avere la proroga. Il venerdì mattina a mezzogiorno il capo dipartimento dell'agricoltura firma lui e non il dirigente addetto questa proroga che è una proroga strana perché è solo di tre giorni ma c'è di mezzo il sabato e la domenica e siccome i GAL che il venerdì avevano presentato la domanda sono sette, oggi ne sono otto chiaramente si andrà sicuramente in un condensioso anzi pare che qualcuno abbia già fatto qualche sposto per cui sicuramente ci saranno ritardi per cui sicuramente questi fondi rischiano di rimanere nelle tasche della Comunità Europea e non delle aree svantaggiate. Grazie